I figli di Aronne, Nadab e Abiù, presero ognuno il proprio bracere e vi misero il fuoco, vi posero sopra l'incenso e presentarono al Signore un fuoco profano che non era stato loro prescritto. Un fuoco uscì allora dalla presenza del Signore e li divorò, ed essi morirono alla presenza del Signore. Mosè disse ad Aronne, questo è ciò che mi aveva detto il Signore con le parole in coloro che mi stanno vicino manifesto la mia santità, di fronte a tutto il popolo dimostro la mia gloria. Aronne tacque. Mosè chiamò Misael ed El Safan, figli di Uziel, zio di Aronne, e disse loro Avvicinatevi e portate i vostri fratelli lontano dal santuario, fuori del campo. Essi si avvicinarono e li sollevarono nelle loro tuniche, come aveva detto Mosè. Mosè disse ad Aronne, a Eleazaro e a Itamar, suoi figli, non scompigliatevi i capelli e non stracciatevi le vesti per non morire. È contro tutta la comunità di Israele che egli è adirato. I vostri fratelli, tutta la casa di Israele, piangano per quanto il Signore ha arso. Non uscite dalla porta della tenda del convegno affinché non abbiate a morire, perché l'olio dell'unzione del Signore è su di voi. Essi fecero come aveva detto Mosè. Il Signore disse ad Aronne, «Quando venite alla tenda del convegno non bevete né tu né i tuoi figli vino o bevanda inebriante, e così non morrete. Legge eterna per le vostre generazioni». Dovete distinguere il sacro dal profano e l'impuro dal puro e insegnare ai figli di Israele tutte le leggi che il Signore ha detto a voi per mezzo di Mosè. Mosè disse ad Aronne e ai suoi figli superstiti Eleazzaro e Itamar, «Prendete fra i doni del Signore quanto resta dell'oblazione e mangiatelo senza lievito accanto all'altare, perché è cosa sacrosanta. Mangiatela in luogo sacro, perché è la tua parte e la parte dei tuoi figli fra i doni del Signore. Infatti così mi è stato comandato. Il petto del rito della presentazione e la coscia del prelevamento li mangerete in luogo puro, tu, i tuoi figli e le tue figlie con te, perché è la tua parte e la parte dei tuoi figli che vi è data fra le vittime dei sacrifici di comunione dei figli di Israele. La coscia del prelevamento e il petto che accompagnano i doni delle parti grasse consumate dopo essere state offerte con il rito della presentazione davanti al Signore appartengono a te e ai tuoi figli con te, come legge eterna, secondo quanto ha comandato il Signore. Mosè si informò accuratamente del capro del sacrificio espiatorio ed ecco che lo avevano bruciato. Egli si adirò contro Eleazaro e Itamar, figli superstiti di Aronne, e disse, perché non avete mangiato la vittima espiatoria in luogo sacro? Infatti è cosa sacrosanta ed è stata data a voi per togliere l'iniquità della comunità e compiere per voi il rito espiatorio alla presenza del Signore. Poiché il sangue di essa non è stato portato all'interno del santuario, dovevate mangiarla nel santuario, come avevo comandato. Aronne disse a Mosè, ecco che oggi avevano offerto il loro sacrificio espiatorio e il loro olocausto alla presenza del Signore e mi sono capitate simili cose. Se avessi mangiato la vittima espiatoria oggi, sarebbe piaciuto al Signore? Mosè ascoltò e gli sembrò giusto.